voi che vivete sicuri nelle vostre case voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici considerate se questo è un uomo primo levi grazie mamma solo perché la mia canzone è mora mamma saranno che tu non sarai più sola quanto voglio avere risperare il dolore che Gesù è il mio cuore forse non ci usano più mamma mario tu hai fatto la scuola ebraica? si non fino alla terza elementare ho dovuto prendere il sacco in collo e non giro per farlo straccivendolo come vivevate voi ebrei nel ghetto di Roma? male molto male perché c'era tanta 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 povertà quando papà lavorava cioè che mamma poteva fare una insalatiera di pasta e broccoli ci mettevamo tutti quanti intorno così come una chioccia con una chioccia con i pulcini e mangiavamo e infatti qui ci volevano tutti bene qui ci volevano tutti bene lungo la fondamenta c'è il sottoportico e incomincia il ghetto il posto dove io ho vissuto tutta la mia infanzia e giovinezza credo che ero felice con la mia famiglia con mio padre e mia madre i miei fratelli con mio fratello in particolare quello più giovane giocavamo molto ci si divertiva eravamo molto uniti allora era scuola una scuola di suore scuole superiori vado alla toaletta e trovo una ragazzina che piange disperatamente che si sta asciugando il viso mi avvicino e chiedo che ti succede stai male qualche cosa è stata rimproverata dice no ma dice la suora ci ha raccontato dice di come quei perfidi ebrei hanno ucciso Gesù in quel momento è stato come se mi piombasse addosso non so che condanna e ho dovuto crescere molto con gli anni riflettere e studiare per conto mio per capire l'assurdità di questa condanna ma ce n'è voluto eh settembre 1938 vengono promulgate leggi persecutorie contro gli ebrei gli ebrei diventano cittadini di seconda classe sono privati dei diritti fondamentali quali il lavoro e lo studio bianca il centro a tutti i dati bisogni non vengono non vengono 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 Quando sono arrivate queste leggi in ottobre del 38 noi siamo rimasti sconvolti dal comportamento dei vicini, quelli che coabitavano nello stesso palazzo, nelle strade, abbiamo visto la gente che guardava da un'altra parte o che ci guardava come se non esistessimo, guardava attraverso, qualcosa che accade al tuo vicino di casa, della porta accanto, quello con cui hai diviso giorni lieti, tristi, quello con cui hai giocato, quello che hai invitato a casa a mangiare, quello col quale hai fatto una gita fuori, da un giorno all'altro il buio più completo, il silenzio più totale. Questa è la porta della sua scuola superiore che lei ha potuto frequentare solo un anno, nel 37? Nel 37 precisamente, nel 38 non ho più potuto frequentare perché sono incominciate le leggi razziali e gli ebrei nelle scuole comunali non potevano entrare. Come ha vissuto lei quel momento? Tristemente perché mi sentivo emarginata non poter andare a scuola, avevo solo 12 anni e dicevo cosa sarà della mia vita senza un po' di studio, veramente mi sono sentita male. La mia insegnante mi chiamò e mi disse esci perché da oggi tu non puoi più stare in classe, in questa scuola. E mi fa guarda tu ormai dovresti andare alle medie non puoi più andarci, basta. Io allora sono andata a lavorare, a fare la sarta e andavo avanti indietro con dei libri in mano per darmi le arie che andavo a scuola. E quindi mi ricordo benissimo che ho uscito dalla classe e andai a piangere dalla bidella che c'era, molto affettuosamente mi viene lì con sé, cercò di consolarmi eccetera, fino a che poi andai a casa e raccontai quello che era successo, mio padre lo sapeva se l'aspettava. Eh no, sono rimasta male perché io avevo un, non so, un qualcosa di bello su questa Italia. Poi quando mi hanno detto ah non puoi andare perché sei ebraico, ma non me ne rendevo conto di preciso cosa era questo ebraismo che era diverso, ecco, perché per me era una religione, io ero italiana. 10 giugno 1940, l'Italia entra in guerra a fianco della Germania. 8 settembre 1943, la Germania occupa l'Italia, viene istituita la Repubblica Fascista di Salò. I nazisti iniziano gli arresti e le deportazioni degli ebrei dall'Italia. 30 novembre 1943, per decreto della Repubblica di Salò, anche la polizia fascista inizia ad arrestare gli ebrei. Erano le 7 di mattina, ci hanno bussato alla porta, abbiamo aperto perché mia madre si faceva delle iniezioni e si chiedeva che era l'infermiere che veniva a fare. Questa è l'entrata di casa tua? Sì esatto, via del Tempio Quattro. A cui sono arrivati i tedeschi? Su tutto, su tutti, hanno carcerato tutti quelli che stavano a questo palazzo, a quel 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 palazzo. Via della Reginella, a quell'altro palazzo. Hanno accerchiato tutto il ghetto. Ecco, ti ricordi precisamente cosa è avvenuto quella... Hanno bussato, una aperta alle 7, si sono presentati i tedeschi, 2 e 3, con un foglio di carta in mano. scritto in italiano, portate con voi tutte le scatolette, ognuno c'aveva qualche scatolame, qualche cosa. Portate tutto il mangiare che voi avete, gioia e soldi, perché si deve andare via da qui e portarvi a lavorare in un altro luogo. Voi non sospettavate niente? Nemmeno niente, perché se no io sarei scappato 15 volte. Quando c'è stata la deportazione a Roma, che io non avevo ancora 18 anni, e era il mio terrore, mamma se vengono anche qua ci divideranno, dove andrai, dove andrò io, era la mia ossessione. La mamma cercava di rincuorare, non pensare a queste cose, che a noi non succederanno, non verrà. Gli dicevo, mamma, è il mio terrore, chi mi divide da ti, chi mi allontana da ti, non mi importa dove chi ne manderà, cosa che sarà da noi altri, non mi interessa. Mi basta essere conti, essere conti mamma, vicino a ti. E mia mamma mi diceva, stupida, non pensare a queste cose, penso a rogar, pensare a tua età che ti giochi e non andare a pensare a queste stupidaggini. Cercava sempre di rincuorare, mamma, il cuore che avevo sempre, che palpitava. Mi presero per la strada quattro fascisti, fascisti perché avevano la cemicetta qui e la camicia nera, e mi portarono a Piazza Farnese, c'era la paia a quell'epoca a Piazza Farnese. Dove ti hanno arrestato? A Piazza Cavour, vendevo queste chanfrusaie così per poter digiunare, sono venuti da me queste persone, tre persone sono venuti da me, dicono documenti, mi chiesti i documenti, ma io non avevo i documenti, ma loro sapevano che io ero al bereo, mi fermarono, mi mesero sopra una carrozza e da lì mi portarono a Piazza Farnese. Dopo circa due ore venne la Gestapo e mi portarono al carcere. Lui mi mesero in cella e vedi i bambini con le mamme, i padri che stavano, avevano aperto le celle per far camminare i bambini su e giocosi. Cara mamma, si parte, spero Dio che è tanto misericordioso di darmi la sua unita alla tua santa benedizione. Non piangere mamma bella, che presto con l'aiuto di Dio ritornerò con i miei fratelli e allora riprenderemo la nostra normale vita e saremo sempre uniti finché Dio vorrà. Posso assicurarti che tanti i primi, i primi, cioè quelli del 16 ottobre, e come gli altri stanno benissimo e lavorano, come pure lavoreremo noi, perciò vedi bene che non c'è nulla di male. Fai finta che siamo soldati, come Erno Settimio e Marco in Africa. E come Dio ti ha aiutato a rivedere loro, così pure speriamo per noi. Mentre gli scrivo mi danno il coraggio gli amici di Scella, perdona mamma se anche io ti ho dato questo dispiacere, ma tu sei buono, intelligente e comprenderai che è tutto destino e adesso non si sfuggi. Avendo saputo che a Milano c'erano delle organizzazioni che aiutavano i bisognosi a rifugiarsi in Svizzera, ci siamo rivolti ad una di queste organizzazioni, che purtroppo non manteneva quello che prometteva alla gente che si rivolgeva a loro. Questo ponte era di legno, era piccolo, sembrava quasi di toccare con la mano la salvezza e sembrava impossibile che dopo tante illusioni, tante speranze, direi tante certezze di farcela, dopo che siamo stati derubati di tutto quello che avevamo per poter pagare gli esosi compensi che queste organizzazioni e queste guide chiedevano per potarci in salvo. Siamo stati arrestati il 7 dicembre del 1943, respinti dagli Svizzeri, quindi al confine nella zona sopra Vigiu, esattamente sopra Saltrio. nel Varesotto. Io, nonostante la situazione, ero felice perché dopo essere stata da sola nel carcere di Varese e nel carcere di Como, mi ero ricongiunta a mio papà ed entrammo insieme qui nel carcere di San Vittore. Tutt'altro avrebbe voluto mio papà per me. Ero la principessina dei suoi sogni, una figlia a cui dare il massimo. invece mi stava portando in prigione. Difficile ricordare che la mia solitudine di oggi, in questo ricordo che non è condivisibile con mio papà. È difficile ricordare senza commuoversi, senza ricordare i suoi polsi con le manette. Lui che non aveva fatto mai niente di male, che era stato ufficiale della Grande Guerra, che era una persona assolutamente perbene, era stato ammanettato come un delinquente comune al momento dell'arresto. Difficile ricordare una giornata così, in questo luogo che è sempre un luogo di dolore, senza sentirsi un po' morire dentro, anche se oggi sono una donna vecchia. Infatti, quando noi dal carcere delle murate siamo stati informati che saremmo stati trasportati in un campo di concentramento in Italia, beh, l'abbiamo vissuto come un fatto, scusami, quasi liberatorio, uscire dalla ristrettezza di una cella di pochi metri quadri, ammassati uno sull'altro, per andare in un campo all'aperto dove avremmo potuto lavorare, dovremmo potuto vivere con un'alimentazione più o meno militare. Io devo dire veramente che noi l'abbiamo vissuta finalmente come una condizione estremamente migliore al carcere. A Fossio Lisenta ci levarono tutti i soldi, non ci sapeva nemmeno una lira, da mangiare ci davano pochissimo. Allora, senta, mia mamma faceva la lavandaia per i ricchi, per quelli che avevano i quattrini che ce l'avevano nascosti, che allora ci pagavano qualche cosa, allora non ci si pavano formaggio, la marmellata, un po' di pane. Lei lavava, il papà stendeva e io stiravo. Io mi ricordo che, guardi, non c'eravamo nemmeno il letto da dormire, si dormiva tutti i ranichiati, io e mia sorella, in un bucchetto che avevamo trovato, guardi, veramente eravamo proprio, proprio storditi, guardi. Non c'era per noi, non so, almeno io e mia sorella ci sentivamo proprio niente. Uscimmo, lì gli SS e i Repubblichini ci caricarono a calcio e pugni su questi camion, il camion sicuramente fece via Carducci. E mi ricordo ancora che all'angolo con Corso Magenta, io che ero in fondo al camion, vidi la mia casa, che era il 55 di Corso Magenta, e il camion poi proseguì. Era un momento di addio alla città in cui ero nata e cresciuta, in cui erano nati e cresciuti i miei genitori, e la città era deserta, c'era la guerra. I milanesi non furono come i detenuti di San Vittore. I milanesi che erano a Milano non si affacciarono alle finestre, non ci buttarono una mela, un arancio, furono silenziosi e muti dietro le finestre. Così arrivamo alla stazione centrale. La fila dei camion che era arrivata da San Vittore imboccò il sottopassaggio di via Ferrante a Porti e imboccò questi ingressi secondari dei sotterranei della stazione centrale in cui ci troviamo adesso e fummo scaricati con grande violenza già davanti al treno preparato per noi. Fu un attimo, la discesa dal camion e la risalita sul vagone fu questione di pochi attimi. Eravamo stravolti a vedere una scena di questo genere, una scena incredibile di questi vagoni bestiame con i portelli aperti che ci aspettavano. Il viaggio fu interminabile, l'aria era irrespirabile perché queste persone vecchie, questa signora amputata, non riuscivano ad arrivare neanche fino al buco per defecare o per fare i loro bisogni e quindi c'erano escrementi dappertutto. La prima fase era della disperazione assoluta, era del pianto, che era non solo il pianto dei bambini disperati di essere al chiuso e di non potersi muovere, ma era il pianto di tutti. Poi molti pregarono. Io mi ricordo proprio degli uomini che in mezzo al vagone si erano riuniti e si dondolavano pregando e poi quasi nessuno più pianse e quasi nessuno più pregò. Perché mi ricordo che negli ultimissimi giorni c'era un grande silenzio, un silenzio solenne, un silenzio essenziale. molti di noi erano alla vigilia della loro morte. Facciamo questo percorso della morte che hanno fatto tutti gli ebrei che sono venuti a Birkenau, Auschwitz. Un percorso che precedeva la morte di un paio di ore o tre. Io sento ancora la sirena o il sibilo o il fischio della locomotiva quando entrava in stazione. Gli arrivi erano tali e tanti che qui sostavano tre trasporti contemporaneamente e più c'erano quelli che attendevano fuori dal campo. Quindi un arrivo di una quantità rilevante di prigionieri tutti ignari di quello che sarebbe accaduto tutti convinti di venire qui per lavorare con le loro famiglie come è accaduto a me con i loro figli quindi con le loro mogli le loro madri dopo giorni e giorni di viaggi di viaggio sofferti per mancanza di cibo d'acqua e di tranquillità sceso dal treno ho sentito grandi rumori abbaiare urlare una scena difficile da da riportare in questo momento perché c'era un fatto terribilmente emotivo traumatico siamo stati calati in un mondo in un mondo indescrivibile un mondo che non aveva una spiegazione che poi piano piano sotto i nostri occhi si è dipanato hanno cominciato a dividere gli uomini dalle donne e quindi fra un abbaiare di cani fra questi uomini prigionieri che aiutavano a dividere le famiglie c'erano le mogli che non avevano lasciare i mariti le madri non volevano lasciare i figli in questo frastuono tremendo un fraurla c'era qua un'opposizione con tre graduati nazisti i quali passavano facevano una rapida e sommaria visita a uno per uno dei prigionieri li mandavano o dentro il campo o di là verso il crematorio il cielo sembrava proprio che ci stava sulla testa era una giornata plumbida sembrava di piombo e già ti sentivi proprio il morale a terra perché venivamo dall'Italia col sole qui alla mia sinistra si fermarono i vagoni queste sono ancora le rotaie sulla quale passavano passavano questa umanità destinata al macello ci fecero scendere anche là con urla e spintoni ed in quel momento stesso che mi ricordo e sento ancora nelle mie orecchie l'urla delle persone anziane e specialmente di quella povera signora Dan che presa sotto le ascelle fu gettata dall'alto dei vagoni avranno avuto forse 30 centimetri o 40 centimetri di altezza dalle rotaie fu gettata come un sacco di patate in tanti anni tante volte ho pensato è una scena che era il non credibile dell'incredibile è da qui che sono scesa ma appena scesa dal treno subito 5x5 qua non per farlo io non l'ho più guardata mi guardavo davanti a me c'evo mia sorella mia mamma vicino e guardavo loro insomma vedevo che succedeva vedevo gli uomini tutti da di là le donne già ci avevano diviso di qua sono 5x5 eravamo attenti attenti silenziosi di quello che ci stava succedendo ma inebbititi la fame il freddo del viaggio 6 giorni senza mangiare e bere così alla meglio e quando si arriva non vedevamo l'ora anzi non vedevamo l'ora ad arrivare a vedere quello che non sapevamo quello che ci aspettava mio padre fu messo alla destra insieme con i vecchi aveva già 56 anni ed ebbe il coraggio il coraggio che proprio da incosciente non so ma penso che era una specie di richiamo verso la famiglia di mettersi davanti a questo ufficiale tedesco che aveva il frustino e dirgli in tedesco guardandolo fisso negli occhi ich bin stark und arbeitsfähig voglio stare con i miei figli sono forte e sono pronto a lavorare voglio stare con i miei figli e il tedesco gli dette col frustino alla sinistra ed ebbe salva la vita visse ancora tre mesi con noi scendemmo dai carri e la prima cosa istintiva era quella di cercare i nostri carri che avevano viaggiato in altri carri con mio padre e mio nonno stavamo insieme e vedemmo subito i miei i miei fratelli uniti a loro ci dovevamo a cercare mia madre e mia sorella e c'era anche mio zio insieme a noi a un certo punto le le vedemmo da lontano c'era ci dovevamo per mano mia madre e mia sorella strette e andammo andammo incontro mia madre ci abbracciò e ci mise le mani sul capo per darci la benedizione aveva capito che era arrivata la fine e disse non ci vedremo più i tedeschi che urlavano bastonavano e mia madre ebbe paura ebbe paura non per lei ebbe paura per noi e disse adesso andate E poi divisero, divisero implacabilmente gli uomini dalle donne. Ecco che io lasciai per sempre la mano di mio papà e non sapevo che fosse per sempre, perché se no chissà come sarei stata, invece ancora in quel momento io speravo che dopo poco sarei stata di nuovo con lui o che al massimo sarebbe stato come a Como, come a Varese, separati in prigione ma poi riuniti per un'altra meta. E così ci salutammo e io fui insieme a delle donne in fila e lui a 50-100 metri lontano da me anche lui si mise in fila con gli uomini. Ci guardavamo, ci guardavamo da lontano mi ricordo e io con l'ultimo fiato cercando di non piangere gli facevo dei piccoli sorrisi, gli facevo dei ciao da lontano perché io ero sempre molto molto preoccupata per lui che così sofferente, così disperato di avermi messo al mondo, così preoccupato logicamente per me come era. E allora gli facevo ancora questi piccoli salutini da lontano poi invece a un certo punto poi non l'ho visto più e non l'ho visto mai più, infatti. Auschwitz, Polonia. 27 aprile 1940. Le autorità naziste trasformano delle vecchie caserme in un campo di concentramento per detenuti politici. Tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942 il complesso di Auschwitz è scelto come luogo di sterminio per gli ebrei di tutta l'Europa. L'attività di messa a morte è spostata dal campo di Auschwitz I a Birkenau, situato a tre chilometri di distanza. In prossimità del bosco di Betulle di Birkenau due piccole costruzioni sono trasformate in camere a gas. Successivamente vengono costruiti quattro enormi crematori con camere a gas annesse per rendere più rapido lo sterminio di massa. All'arrivo degli ebrei deportati i nazisti effettuano una selezione. Circa l'80% viene mandato agli impianti di messa a morte. Gli altri entrano in campo per divenire mano d'opera schiava. Poi venne la notte e la notte guardai fuori da una finestrina e vidi per la prima volta il fuoco sopra la ciminiera. Era una visione molto brutta, era una visione della notte nera, la neve bianca, brillava, brillava perché il fuoco là in fondo era sinistro, era terribile. E ormai sapevo, sapevo che cos'era quel fuoco allora e fu una notte veramente tremenda. Dopo una settimana diciamo di lavoro e non mi rendevo conto che era quel fuoco, non il fumo, il fuoco addirittura scivano da questi cammini. Ho trovato uno che parlava francese e lui mi ha detto di Giuseppe, quando sei arrivato? Ho detto una settimana fa, beh con chi sei arrivato? Dico mia madre, mia sorella, non so, stanno lì da guardì, dico perché, ma chi è? Lì cremano, ti ammazzano e poi li cremano. Dico ammazzano chi? Le persone, noi ebrei. Non ho mai perduto la sensazione di trovarmi in un posto terribile, perché vedevo il fumo nero che si sprigionava dai cammini di Birkenau e vedevo che questo fumo nero a volte diventava una nube terribile, terribile come densità e come odore acre che emanava. Io cercavo mia mamma in continuazione, è stata una cosa… E mi hanno detto, vedi quel fumo? Beh, tua mamma è salita lì. Tutti quelli che sono andati sui camion sono morti subito quella sera, come siete arrivate. Ho avuto un grosso trauma, non parlavo più, per parecchio. Quando ci fu detto davvero voi credete di essere arrivati in un luogo di villeggiatura, ma dove credete di essere? Non sapete che siete in un campo di sterminio, in un vernichtungslager e ci hanno fatto vedere da una finestrella una costruzione in cemento che era in fondo al campo e che era sovrastata da un cammino da cui usciva un'orribile perenne fiamma e ci hanno detto se non sono bruciati già stanotte, stanno bruciando adesso, non c'era più possibilità di illuderci. E allora abbiamo capito dove eravamo e abbiamo capito che anche la nostra vita, il nostro futuro era legato a quel cammino da cui saremmo comunque usciti perché non c'era altra via. Shlomo, tu sei uno dei pochissimi sopravvissuti di un Sonderkommando, una di quelle squadre di ebrei obbligati dai nazisti a lavorare all'interno dei crematori. Noi stiamo percorrendo esattamente la strada che percorrevano le persone che dovevano essere eliminate. Tutte quelle persone che erano già destinate a essere eliminate appena arrivate, naturalmente sempre donne, bambini, anziani e persone malate, disabili, venivano qua. Qui c'erano le SS attorno? Qui attorno c'erano delle SS, sempre naturalmente con delle fruste, con dei bastoni per picchiare la gente. Come arrivava qua? Allora questi si incanalavano, diciamo, in questa maniera, e scendevano qua sotto. E qui sotto stiamo andando adesso alla camera dove si svestivano. Qui, come vedete, entrando qui... Vedete, tutte queste pareti qua, lungo le pareti, c'erano delle attaccapanni. Ogni attaccapanno aveva il suo numero. Il tedesco, ormai quando la gente, la maggior parte della gente era qua dentro, faceva dire a uno dei prigionieri della nozionalità, delle persone che erano arrivate, di appendere i loro abiti e di ricordarsi bene il numeretto dove appendevano la roba. Di modo che quando uscivano trovavano tutto quanto, la roba che avevano lasciato l'altrimente, si sarebbe creato molta confusione e avrebbero perso la roba e non voleva che succedesse una cosa del genere. In questa maniera, logicamente, lui convinceva di più la gente che stava andando soltanto per fare la doccia e dopo la doccia tornavano indietro e avrebbero trovato la loro roba al loro posto. Di tutto questo era tutta una menzogna. Qui ci sono tutti questi mattoni che le rovine, appunto, dopo che l'hanno fatto saltare per aria, se non che entrando in questo atrio dallo spogliatoio, si mettevano, appunto, nell'atrio. Di fronte c'era un montacarichi dove veniva coperto al momento che la gente passava e poi a sinistra c'era un'altra porta dove metteva dentro questa camera dove dovevano fare la doccia, invece era la camera a gas. Questa camera con le docce, erano delle docce finte e la gente quando entrava dentro, la prima cosa che faceva, cercava di accapparrarsi una doccia. si metteva sotto strofinandosi pensando che da un momento all'altro veniva l'acqua, invece l'acqua non veniva mai. E era qui davanti? La porta era qua, l'uscita era esattamente qui. C'era una sola porta in questa camera? Una sola porta e siccome era proprio a piano, diciamo, con la terra fuori, si vedeva soltanto quel tombino dove appunto mettevano dentro questo ciclon B, il gas. Quanto era grosso? Un 60-70 centimetri quadrati. E lì il tedesco si metteva la mascherina, apriva questa scatola di ciclon B, che poi aveva un colore sull'azzurrino celeste, una cosa un po' che poi cambiava colore a contatto dell'aria. e si metteva la mascherina lui perché aveva paura di aspirare quell'odore, e buttava dentro e lì era due di noi, due ragazzi di noi, ci ordinava di coprire con il coperchio fatto appositamente per quel tombino, diciamo. Si chiudeva quel tombino e tutta quella gente, dopo 8-10 minuti, era ben casfissiata. Allora, dopo di quello, andava via questo tedesco col camioncino, dalla parte sotto si apriva quella porta che c'era giù, che poi è una porta, si poteva dire, blindata in quanto era abbastanza spessa. Prima di entrare dovevamo far arieggiare un po' questa camera, e passavano sicuramente una ventina di minuti o mezz'ora massimo, e allora i primi cadaveri già stavano a portata di mano, si può dire, erano ancora tutti caldi perché erano appena morti. Il mio compito era appunto quello di fare il barbiere, e il mio compito era appunto di tagliare i capelli specialmente alle donne, che è solo alle donne, perché erano quelle che avevano i capelli lunghi. In quei periodi là erano tutti con le trecce lunghe e i capelli abbastanza, e siccome loro prendevano appunto i capelli e li mettevano, ce li facevano mettere in dei sacchi, e quando si riempivano parecchi i sacchi veniva un camion e li portava via. Sembrerebbe la cosa più facile del mondo dire dieci nomi, ma sono dieci massi, sono dieci staffilate, sono dieci raffiche di mitra, sono dieci assassini. La mamma, Nella, papà, Ulderigo, mio fratello Enzo, sua moglie Lilia, il bambino Sergio di un anno e mezzo, mia nonna Gemma di 80 e più anni, mia zia Lina, della Torre, e suo marito Oliviero, e i due figli Maglio e Massimo. Non credo che loro ci ascoltino, non credo che loro ci sentano, ma voglio dire che io sento molto loro, li sento molto vicini. In questa che è la loro tomba, li sento molto vicini. È difficile, estremamente difficile. Ho avuto la brutta sorpresa di incontrare mio cugino, Leone Venezia, se non che lo son visto capitare giù dove si spogliava questa gente e lui sapeva di trovare qualche cugino sotto e di fatto mi ha cercato e ci siamo incontrati giù dove si spogliavano loro. Lui non si dava pace, era in un certo senso rassegnato e non rassegnato, pensava che quelli che stavano dentro potevano fare qualche cosa. Mi ha costretto ad andare a parlare col tedesco, il sotto ufficiale che stava sempre lì con noi, al che l'ho voluto accontentare e con quel poco di tedesco che parlavo sono andato da questo sotto ufficiale a dirgli «Ich habe hier meine kusene se si poteva fare qualche cosa». «Ob man kann etwas machen für ihn». Allora mi ha subito risposto che Alice mi ha detto in tedesco «Scheißegal». «Scheißegal» che vuol dire tutta una porcheria. Cosicché sono tornato indietro e glielo ho detto a lui e questo adesso ha visto che non c'era niente da fare e l'unica cosa che ho potuto fare per lui e gli ho chiesto se voleva mangiare qualche cosa. Anche sapendo che andava a morire ha voluto mangiare e io gli ho portato tutto quello che c'avevo sopra nascosto da parte e così lui si è fatto una bella mangiata e questa era l'ultima cena per lui. lui insisteva per sapere come si moriva, insomma, in poche parole. Gli ho detto di farsi coraggio che non avrebbe sofferto e che purtroppo di lì non si usciva, non si poteva uscire almeno che non andava un altro al posto suo perché quelli che rimanevano vivi dovevano essere lo stesso numero i pezzi dovevano essere sempre i stessi pezzi. Allora gli ho fatto capire che durava pochissimo che non avrebbe sofferto e che purtroppo non c'era altra via d'uscita e questo lui l'ha accettato diciamo volentieri ma purtroppo ha visto che non c'era nulla da fare e queste sono le ultime parole che ho parlato con lui. Poi logicamente quando li abbiamo portati su abbiamo fatto un kadesh per lui e tutto l'ha. Mi ricordo che molte volte svenivo per tutte ero morta e invece in qualche modo mi sono ripresa. Mi piaceva svenire perché quando svenivo mi sentivo così leggera così mi sentivo bene un benessere solo che durava poco poi rinvenivo e vedevo dove mi trovavo. I bambini che scendevano dai vagoni erano come i bambini di tutto il mondo piccoli assolutamente ignari del loro destino e direi che nonostante tutto erano sorridenti portavano dei giocattoli in braccio e si tenevano ricordo in file in file di tre per si tenevano per mano. Oggi che grazie a Dio ho dieci nipoti penso penso e mi riviene nella mente quando vedi un trasporto con circa duecento bambinette piccoline che portavano le bamboline di pezza così e si avviavano verso verso i crematoi il crematoio stete con la fiamma due giorni oltre il camino circa due metri oltre il camino era carne carne tenera era carne di bambini ebrei si sentiva l'odore per tutto il campo si sfargeva l'odore e l'odore si sfargeva l'odore e si sfargeva l'odore 53 anni non si è mosso un decimo e quando ero piccolo che quello che che me l'ha fatto ogni puntino zampillava una gocciolina di sangue mi ha visto un po sbalordito mi ha detto stai tranquillo che te lo levo guarda va bene che non c'è più niente va bene che non c'è più niente ormai stava nel sangue 179 605 papà aveva 179 606 8 5 0 1 a 80 85 0 6 a 15.803 70 412 173 154 a 53 72 a 53 77 180 0 60 un numero facile da ricordare no questo numero mi ha costato un sacco di botte perché perché dovevo impararlo in tedesco un derachzi nel zekzi e non ci riuscivi e non ci riuscivo perché non capivo niente chiamavano il numero mio e io zitto finché veniva l'SS e che vedeva che ero io e allora forza di botte l'ho imparata 15.810 lo dovevi sapere in tedesco eh sì è quella quella però in blocco con me c'era un polaco che molte volte chiamava nel numero e molte volte chiamavano per cognome lui si chiamava Sanlischarski sono cose che non ti dimentichi io salvo nì come chiamavano lui appresso venivo io e allora e allora cominciai cominciai a stare una volta 15.810 e chi gli risponde non lo sapevo veniva Sanlischarski va dai nel numero io allora il numero mio è 15.810 sono tedesco io mi sono fatto a 14 anni mi sono fatto a Monkampo con gente che parlavano 6 7 lingue non sapevamo dire tanto jah sai quante volte ho preso le botte io perché anche altri tedeschi tedeschi ebrei polacchi italiano è successo che aveva fatto l'italiano ho dovuto imparare il tedesco e ti ho detto che mi ha preso un tedesco in petto mi ha detto tu non l'hai imparato qui in campo l'hai imparato a scuola non sono stato io è stato lui io lo sapevo dire come glielo diceva lui non ho imparato talmente bene la lingua che sapevo parlare come parlava lui non ho preso le botte sempre ho preso le botte ci chiamavano maccaroni dopo la prima selezione entrati in baracca e vediamo questa tragedia eravamo state tosate pelate numerate ma eravamo inebbedite forse due giorni al collegio militare sei giorni di piaggio senza mangiare inebbedite fino a quello che la sera siamo entrate nelle baracche e dalle prigioniere che vedevamo schede diceva che sono uomini donne non capivamo chi era no? e purtroppo ci raccontarono la triste verità quello che era il campo di Auschwitz ci parlarono di forni crematori di fucilazioni e noi diciamo ma questa è gente pazza gente vedi ti ho detto che qua è pazzia qua stiamo all'inferno purtroppo invece l'abbiamo subito constatato qualche giorno dopo quello che ci hanno raccontato subito era vero ma di fuori si facevano gli appelli quando si usciva mattina e sera e la mattina tutti fuori ogni baracca fuori per l'appello ore e ore mattina e sera appello quando c'era neve era triste l'appello e si svolgevano anche le selezioni ogni tanto c'era una selezione andava l'appello e c'era una selezione un appello in Birkenau era una tortura ed era un'occasione per far violenza sui prigionieri un appello a Birkenau per noi ci alzavamo al mattino alle 4 e mezza era qualcosa che poteva durare un'ora, tre ore, cinque ore, una giornata quando durava a lungo era perché qualche prigioniero o un prigioniero era fuggito quindi alla conta risultava mancante il campo era percorso dalle parole Einefeld, Einefeld, manca uno, ne manca uno e quindi la conta, poi la conta, poi la conta ancora all'infinito allora perché era un luogo di supplizio, un'occasione di supplizio? perché il prigioniero doveva restare immobile guardando un punto all'infinito il comando all'inizio era abteilung, still stand, richt euch, bütze, ab dopodiché il prigioniero doveva rimanere sugli attenti in palato cosa che per un giovane non era un gran sacrificio non so, era un fastidio se durava a lungo però era possibile, mentre le persone più anziane dopo un po' non ce la facevano più a stare in piedi e allora dovevano urinare e non potevano lasciare la squadra per andare a urinare si urinavano addosso, defecavano e se passava o un capo o un nazista di qualche grado e vedeva questa scena diceva nazista in sabotage perché lui aveva danneggiato un oggetto di proprietà del Reich e doveva essere punito quindi li tiravano sulla giacca, prendevano nota del numero e poi succedevano le cose più inverosibili descrivo, dunque qua c'erano la stanza di Ablocova ci si vede molto bene ma insomma questi erano i nostri letti, i primi letti qua abbiamo occupato dormivamo su ogni tavolaccio 10 persone 10 anche per terra io avevo un terzo letto, stavo in questa posizione qua ecco qua c'eravamo 2000 persone eravamo 50 ragazze affiatate io dormivo a letto che c'era una ragazzina che c'era 15 anni, Norina si chiamava anche lei Spizzichino questa Norina stava con la mamma la mamma l'aveva seguito nella scelta non si sa insomma perché a noi sembrava vecchia una donna di 40 anni vicino a tutte i giovani per noi sembrava vecchia e vedevamo sta donna che faceva le coccole alla figlia era una Norina cara dice quanto stai soffrendo se Dio Benedetto ci salva dice quando ritorniamo a Roma sarai una regina ti farò diventare regina e noi vedevamo sta mamma come coccolava sta gradura e noi tutti così a bocca aperta a vedere dico guarda questa c'è la mamma che la coccola e chi ci coccola a noi poi una bella mattina non c'è l'appello, c'è l'appello e tutti scendiamo di corsa e lei non riusciva a scendere non riusciva a scendere la mamma di questa Norina allora abbiamo cercato di aiutarla a scendere ma l'ha ghiacciata, era morta ero intento a pulire le paracche voleva dire stare al coperto dalle intemperie faceva freddo in mezzo ai castelli e ai letti vedi muovere incuriosito arrivai là e stare fatto proprio vedi un omino che poteva avere a quei tempi 50 anni, 55 anni che aveva i tefillin indossi e pregava con un libricino così beh lo picchiai selvaggiamente ma gliene detti di pote la testa gliela sbatté più di 8 10 volte sulla parete della baracca tu mi domanderai perché? beh fui forse preso da un istinto di sopravvivenza poiché se invece di essermi accorto io se ne fosse accorto l'SS che non è che l'SS che bussava per entrare in una baracca beh lui aveva messo a repentaglio la vita di 70 persone perché non è che avrebbero fatto un processo avrebbero preso il mito radunato la baracca e avrebbero ammazzato tutti ma senza nessuna una cosa semplice senza nessuna beh dopo ah e lo ammonì di non farlo mai più questo poveretto riprese sti tefillin sto libricino e lo rinascoso lo nascondeva in un pezzo di pagnotta nera tedesca aveva scavato la mollica e poi li copriva con questo strato di mollica dopo capì la devozione che è questo uomo che rischiava tutti i minuti la vita i famosi alberi i famosi alberi comunque poi dalla baracca mia gli alberi si vedevano soltanto in lontananza è un effetto strano volevo venire qua volevo rivedere quei posti per vedere se me lo ricordavo veramente bene ed è lo stesso uguale preciso preciso come lo tengo non lo tenevo in mente da 50 anni sempre giorno e notte io almeno sono tornata e tutte quelle povere compagne e altre che non sono più tornate è difficile quello che provo oggi esprimere che in questo momento mi è difficile parlare sto cercando di farla forte ma mi rivedo qua nuda privata di tutto della mia dignità della mia personalità di tutta la mia sembianza umana ricordo tutto così preciso mi sento ancora le spinte dietro la spalla del fucile dei tedeschi per fare presto vedo ancora tutte le mie compagne e poi e poi quando eravamo nudi una dietro l'altra che cercavamo di coprirci e con gli uomini e le donne tedesche che ridevano ci schermivano anche se non ho mai dimenticato questo baracone ma adesso trovarmi qui così senti Romeo Nedo Piano ci ha detto che lui si è salvato per il suo spirito per i suoi canti ma anche per lo spirito che voi romani gli davate perché voi riuscivate a raccontare barzellette in campo riuscivate a tirarvi su di morale ma come facevano? Speravamo sempre l'uno con l'altro di tenerci su col morale infatti io quando vedevo infatti io quando vedevo questi ragazzi questi ragazzi romani del ghetto che chi era chi aveva lasciato la fidanzata chi era stato deportato prima di sposare erano un po' tristi io nella mia esuberanza la passate la parolaccia dico a stronzo tu stai qui con molta probabilità la tua fidanzata sta a mangiare e forse starà a letto con qualcuno a stronzo sei tu che te devi salvare perché la tua fidanzata è salva perciò pensa a te ma che piangi stronzo che piangi ma che piangi dico adesso questo l'ho finito con te tu che c'hai c'hai moglie e i tuoi figli benissimo sai se sì ma mi hanno scritto da fossoli che si sono salvati ma tu devi giubilare tu devi saltare tu devi giostrare tu devi ballare seppure speriamo di no ma seppure non ritorni c'hai quella soddisfazione che i tuoi figli e tua moglie sono salvi ma perché fai così no mi sa fare una passeggiata per campo evitiamo quella baracca là che c'è sempre un fio di una mignotta là che c'è sempre il bastone e beh insomma l'amore no l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose oppure che bella cosa la giornata è sole l'aria serena dopo la tempesta e l'aria fresca pare già una festa che bella cosa è la giornata il sole perché anche i zinghari erano organizzati avevano rimediato un salamino così una fetta di salami ci avevano il pane e ci hanno dato il free stick pezzo io mi ero messo in tasca allora da questi zinghari dico se vi canto qualcosa mi potete dare erano due gemelli non so come stavano a quel reparto perché c'erano un reparto esperimenti di gemelli però erano dissimili l'uno con l'altro uno era diciamo insomma non è che era grasso ma insomma aveva il viso grosso è uno secchettino secchettino che non sembrava un manco gemelli dice che cosa ci canti dico vi canto una canzone che a voi vi piace pane pezzettino di sulla sedia dondolò placido mi dondolò e mi sembra d'essere in una bianca nuvola che nel cielo va il mio cuore brontola sempre in una pentola che dopo mi inventavo pure le cose e loro che cazzo capirono guarda come i memori subito si illumina di felicità ah italieno ah non trovi eh no morgen morgen eh eh otter singhemi otter wursti otter adesso no niente nein morgen adesso ci sono gli uccelli allora non c'era mamma mia quante volte ero fatta a sta strada certamente non esisteva tutta questa era tutta tutta terra non so come definirla eh melmosa qui noi sapevamo che c'erano due 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 forni crematori con le camere a gas poi naturalmente veniva a sapere che c'erano altre altre due dall'altra parte ma ripeto la nostra angoscia era che arrivati a questo a questo punto girando già a sinistra eravamo in certo senso a metà tranquilli perché un crematorio l'avevamo abbandonato ma però bisognava arrivare e sorpassare ovviamente l'altro crematorio che era situato lì dove vedete questi questi mattoni in tutta questa lunghezza era il crematorio 4 pensate questo succedeva ogni mese noi ci avevamo questi traumi mensilmente della disinfestazione in più si aggiungevano poi le famose selezioni e questo alla nostra vista questo questo era un edificio che era completamente isolato ossia era isolato la vista naturalmente e voi immaginate venendo dal campo percorrendo questo itinerario quando adesso ne rendo conto quando voltavamo qui a sinistra finché non avevamo superato ossia finché non arrivavamo a quell'edificio lì non sapevamo se venivamo indirizzati alle camera gas o alla sauna e questo purtroppo succedeva quasi ogni mese a un certo punto il blocco del tester chiese chi voleva partecipare al cosiddetto leich in comando aveva la più pallida idea cosa significasse leich in comando però la promessa era che noi avremmo avuto giornalmente una reazione di pane in più io aderei immediatamente però non sapevo di cosa si trattava poi mi spiegarono che dovevo andare in questi sedici blocchi una alla volta andare a vedere a riscontrare se la mattina c'era dopo l'appello naturalmente se c'era qualche cadavere prendere questi cadaveri metterli su un carretto e portare trainare questo carretto fino all'ingresso ora mi successe che un giorno il carretto era quasi pieno e l'ultimo l'ultimo cadavere naturalmente eravamo in due perché uno lo prendeva per i piedi uno lo prendeva per le braccia lo buttammo proprio sopra e caso voglia che questo mi cadde proprio davanti seduto con le braccia così ed era veramente pelle ossa quello che noi che poi ho appreso che in campo si veniva chiamato il musulman e fosse vero o meno ebbe l'impressione che questo non era morto non poteva parlare ma ho avuto l'impressione che con gli occhi mi implorasse di di levarlo perché lui lo sapeva già perché lui era probabilmente era conoscenza dell'esistenza dei campi dei crematori che lo levassimo da da questo da questo carretto bene questo è uno dei traumi uno dei diciamo dei traumi che io ho portato avanti ogni notte questa visione l'ho portata avanti per 25 anni ecco io venivo portata qua da Birkenau avevano scelto una tedesca non a me ma sta tedesca parlava le lingue si è fatta capire dice porta via l'italiana e io mi rifiutai dico ho scelto te ma io non mi potevo più difendere perché la lingua non la sapeva questo mi ha impresso ho detto scendi giù dal letto mi ha messo una coperta addosso e vieni con me e io non sapevo dove andavo tanto che vedevo che tutto l'ospedale mi feceva ciao italiana ciao italiana ma dove va da morte ma perché mi salutano tutti in questo modo perché non sapevo dove andavo e neanche quando sono arrivata qua che mi hanno custodito pulita lavata messa a letto ma che mi sta succedendo tutto immaginavo fuori che che finivo in un blocco di esperimenti quando passai al salone di là ero allettata con questo grande aromatismo che non mi avevo vico in un certo momento mi è venuta l'idea di alzarmi di alzarmi mi sono attaccata al lettino che ci avevo vicino poi mi sono appoggiata alla seggiola dalla seggiola piano 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 mi sono trascinata fino al lavandino perché vi devo far vedere come era disposto quel salone mi sono avvicinata al lavandino io non mi ero più specchiata dal giorno che sono uscita da casa il 16 ottobre io non ho visto più uno specchio quando mi sono appoggiata al lavandino che mi sono fermata mi sono aggrappata così al lavandino ho guardato lo specchio io sapevo che c'era lo specchio perché vedevo che tutti si andavano a specchiare lo sapevo non è che non lo sapevo quando mi sono appoggiata al lavandino così per reggermi ho guardato lo specchio e ho fatto così Dio morella quella quella sta morendo faccio così quella sta morendo che fa così con le mani toccandomi il viso mi sono vista allo specchio che ero io quella che dicevo che stava morendo sono riconosciuta le mani così ho preso e sono crollata per terra mi sono svenuta e sono crollata per terra e chi la faceva che stassi potrebbe essere molto bello se non avessi perso tutti i miei genitori e i miei cari ritornare qui dopo 50 anni sarebbe una grande gioia di vedere un posto che ho soffetto tanto ed ora che non mi manca niente di ritornarci ma purtroppo è una brutta giornata oggi per me qui ancora c'è tutte le ceneri e le ossa dei miei genitori delle mie sorelle e dei miei nonni e di tutti quanti lì io ero piccolino ero ero mingherino non avevo tanto bisogno di calorie e mi hanno messo a lavorare a un posto dove 450 metri sotto terra dove i minatori tolgono il carbone io mi sono fatto ottobre già c'era la neve ottobre novembre dicembre gennaio febbraio 5 mesi poi marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile ho fatto 19 mesi 20 mesi con due inverni completi partendo da ottobre non c'erano lacrime per piangere non c'erano lacrime per piangere perché se piangevi che ti buttavi giù era il momento che morivi dovevi avere la tenacia la forza la speranza perché sapevamo che un giorno doveva finire e ogni giorno che tu campavi era un giorno che ti avvicinavi alla liberazione e un giorno ero in macchina con mio figlio e passavano i bambini che andavano a vedere li portavano al circo ah mi ha detto vedi vedi i bambini che vanno al circo a vedere gli elefanti sì sì è vero io vedo i bambini che entrano al crematorio per mano si tenevano per mano ah ma è sempre così non so se ci sono scuse per quello che hanno fatto non esiste una scusa per oggi sapendo anche di più prima sapevo solo la mia storia che era anche quella mi bastava e non esiste una scusa per una cosa del genere perché non è non è umano io dico che mi hanno tolto tutto tutto mi è stato rubato tutto la mia infanzia la mia famiglia la mia casa la mia mamma la mia salute il mio sonno dica cosa mi dica cosa mi è rimasto potevano essere potevano curare con tutto l'amore possibile immaginabile gli esseri i loro cani e cos'era allora io ero meno di un cane hanno cercato di fare di meno meno di un cane forse c'erano riusciti in quel tempo io sono molto orgogliosa di quello che io dal fatto di essere meno di un cane sono riuscita oggi ad essere una persona io me le dico il giorno che sono uscita da quel lago non dovevo uscire non dovevo mai tornare e anche l'orgoglio sta in questo che loro con quanto per quanto hanno fatto e per quanto ci sono riusciti in parte hanno perso non sono riusciti non sono riusciti a sterminarci io sono qua era un umano sterminato mia moglie mi ha detto mi ha dato queste cose qua per i fiori i fiori non si possono portare qua mi ha dato tre sassi perché la nostra religione basta mettere un sasso due lo buttare là dove c'era mio padre e mia madre e uno lo buttò per mio padre qui per realizzare quest'opera sono stati intervistati 93 ebrei italiani sopravvissuti alla deportazione non tutti compaiono nel film ma la loro testimonianza è conservata per sempre questi sono i loro nomi ester amato isacco baiona silvia belleli stella benveniste enrico briner alessandra bucci titiana bucci angelo calò ester calò matilde coen rachele coen raimundo coen salomone dana ottaviano danelon germana del mare adriana di nepi giuseppe di porto lello di segni donato di veroli errina di veroli giuditta di veroli leone di veroli silvia di veroli teo ducci lucia eliezer fausta finzi stella franco norina gehan martino godelli adolfo gruner enrica iona gisella kugler elsa levi italo dino levi rachele levi rosa levi mario limentani liana millu giacomo moscato matilde mustacchi rachele mustacchi amalia navarro luciana nissim graziella perez lello perugia settimio piattelli edo rabà luciana sacerdote gilberto salmoni diamantina salonicchio dora schemaria giulia sharkon franco schongheit fattina sed eugenio sermonetta pacifico sermonetta marco spizzichino jacob sturm arianna zoreni giuliana tedeschi natalia tedeschi loredana tismineschi josef varon albina valek lina ventura benedetto vivanti arminio waxberger enrica zarfati milena zarfati silvana zarfati benedetto Grazie a tutti. Grazie a tutti.